Sì, che mamma è partita che tipo anche lei aveva, era come, cioè, si è laureata, si è aveva un metodo di studio, però comunque trovava difficoltà su molte cose ed è riuscita a memorizzare 1800 domande ricordandole tutte tramite questo metodo. Si è trovata benissimo, cioè, ma anche io mi trovo, io sono strafelice di quello che ho fatto, cioè, mi sento ultramotivato, ultragasato, cioè, mi diverto a fare le mappe, mi diverto come se fosse un gioco, non è che pensi che stai studiando, va, che brutto, pensi che stai giocando, è molto bello.